ciao a tutti eccomi qua con un altro video su una guida che mi è stata richiesta da Ettore un ragazzo su youtube e voleva sapere come una volta scritto una frase o una parola come distanziare le lettere una dall'altro oppure avvicinarle è semplicissimo ora vi faccio vedere noi scriviamo io mi scelgo un fonte a caso e scrivo vale e dobbiamo andare in questa finestra qua qui se selezionate così potete cambiare font tipo di font qui vi da se volete scrivere in orizzontale o in verticale questo serve per fare il font più grande o più piccolo come lo desiderate e per distanziare le lettere dobbiamo andare in questa dicitura qua spaziatura carattere selezioniamo la frase e ci possiamo spostare o con questa freccia qua oppure in questo modo qua così logicamente mettete più tempo io uso sempre da questa da questa freccia qui poi se è troppo e voglio diciamo restringere di poco mi servo di queste due freccette ma comunque sempre più veloce vedete usare qui e questo è quanto lui poi voleva sapere se si poteva trasferire in un'altra pagina quindi non ho capito bene ma comunque una volta che hai selezionato e distanziato le parole le puoi tagliare direttamente da questa pagina qui non ho capito bene cosa intendevi dire bene io spero di essere stata di aiuto magari iscrivetevi al mio canale chiedete tutte le guide che volete io le farò vi saluto e ciao al prossimo video